Stamattina i giornali aprono così, patto tra ONG e scafisti. Ieri la Juventa, una nave di una ONG tedesca, è stata fermata dalla nostra guardia costiera e condotta nel porto di Lampedusa per degli accertamenti. La procura di Trapani ha chiesto il sequestro dell'imbarcazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo chi sta indagando, alcuni componenti dell'equipaggio di questa nave ONG avrebbero avuto contatti con i trafficanti libici per portare i migranti in Italia, i cosiddetti scafisti. Adesso capite perché l'anno scorso da noi ne sono arrivati 180 mila e in Spagna soltanto 8 mila di migranti? Le condotte irregolari di alcune ONG noi le avevamo denunciate quattro mesi fa, a sostegno di quell'allarme lanciato dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, e avevamo chiesto di mettere in condizioni le procure siciliane di poter accertare i fatti. Per tutto questo siamo stati accusati e insultati in ogni modo, ma alla fine avevamo ragione noi. Ora sia chiaro, io non pretendo alcuna scusa, non mi interessano le scuse, ma mi auguro innanzitutto che la politica e tutti coloro che non hanno perso occasione di infangare il nome di quel magistrato si scusino con il procuratore Zuccaro, che per primo ha denunciato i fatti relativi agli incontri e ai rapporti tra ONG e scafisti. Questo è il primo passo per rimettere le cose al loro posto. Ora, in alcune intercettazioni in mano ai magistrati si ascoltano membri dell'equipaggio della ONG dire non è nostro compito contribuire all'indagine e non daremo foto degli scafisti. Queste intercettazioni sicuramente dimostrano una cosa, che sulle operazioni di salvataggio o traghettamento nel Mediterraneo serve un controllo della nostra polizia, prima di tutto per combattere concretamente lo sporco lavoro dei trafficanti. Se necessario c'è bisogno anche di uomini della nostra intelligenza a bordo di quelle navi. Serve una legge, non un futile codice di condotta. Di questo gioverebbero anche tutte quelle organizzazioni che svolgono correttamente le loro attività umanitarie nel Mediterraneo. Noi di legge ne abbiamo depositata una mesi fa, ed è a prima firma Alfonso Bonafede e prevede proprio la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi delle organizzazioni non governative. Il PD ha tutti i numeri per portarla in aula e farla votare subito. Se serve, propongo di riaprire il Parlamento ad agosto e approvarla subito. Siamo in emergenza? È una questione di sicurezza nazionale? Sì. Allora il Parlamento ha il dovere, nei confronti dei cittadini che rappresenta, di intervenire immediatamente. Se il PD vuole presentare un'altra legge uguale alla nostra, come ha fatto con i vitalizi, faccia pure. L'ho già detto. Non ci offendiamo, non ci interessa prenderci il merito. L'importante è iniziare a lavorare per risolvere questa emergenza che ci opprime da anni. E dobbiamo farlo noi, come Italia. Siamo uno Stato sovrano, non ce lo dobbiamo dimenticare. Tra l'altro, in queste ore leggo di un ridicolo scaricabarile tra l'ex Presidente della Repubblica Napolitano e l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi su quelle che sono le responsabilità dell'intervento militare in Libia. L'unica certezza è che per loro scelte scelerate a pagare sono stati un'altra volta gli italiani. E qui viene il punto però. Perché da sei anni a questa parte, tutti i governi fabbricati in provetta, guida PD, sull'emergenza migratoria hanno totalmente fallito. Questa è la realtà. Sei anni di nulla, il nulla più assoluto. Prima hanno bombardato la Libia spalancando la rotta del Mediterraneo. Poi hanno rinnovato il regolamento di Dublino che impone all'Italia di farsi carico di tutti i migranti che arrivano sulle nostre coste. Poi ci hanno assicurato che li avrebbero identificati per ricollocarli per quote negli altri Paesi europei. Non funzionano le identificazioni e gli altri Paesi europei che non stanno accettando i migranti non vengono sanzionati dall'Unione europea. Non vengono rimpatriati gli irregolari e intanto si continua a favorire anche con gli irregolari il business sull'immigrazione di cooperative che poi finanziano le campagne elettorali dei partiti di governo che non fanno i rimpatri. Non c'è nessuna traccia di un diritto da sito unico europeo e né di un sostegno economico serio all'Italia. Io ricordo che noi quest'anno impegneremo per raccoglienza, monitoraggio e tutto ciò che riguarda l'immigrazione 4,5 miliardi di Euro. L'Europa ci mette solo 100 milioni di Euro. Ma soprattutto in cambio di qualche briciola di flessibilità per finanziare i suoi 80 Euro, Renzi, come ci ha confermato l'agenzia Frontex qualche settimana fa, ha stretto un'intesa con Bruxelles per fare in modo che tutti i migranti dal 2014 in poi approdassero nei porti italiani. Questo è quanto in sei anni da parte dei governi del PD il nulla assoluto, il flop totale, hanno avuto la presidenza del semestre europeo inserendo il tema migranti in cima all'agenda politica e non sono riusciti ad ottenere nulla. La situazione è solo peggiorata. Pensate che in questi sei anni sono oltre 700.000 i migranti arrivati in Italia, quasi due volte la città di Bologna. La maggioranza di questi tra l'altro non potrebbe restare in Italia, ma resta nel nostro paese ad ingrassare il business dei partiti sull'immigrazione. Malafede, interessi personali e incapacità, questi signori hanno svenduto la nostra sicurezza nazionale per restare incollati alle loro poltrone. Hanno fallito l'oro e stanno portando al fallimento il nostro paese. Ma il 2018 è vicino e dei loro disastri sono sicuro ne risponderanno davanti a tutti gli italiani. Grazie. 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 Grazie.